Nella sesta giornata di campionato il postaccio del DS Sergio Tosi passa per 5 a 3 a Mosciano Sant'Angelo. Così commenta la giornata il sito della federazione. La prima vittoria in campionato per la Civitanovese. La conferma che il campo di Cagliari si dimostra ostico per chiunque, quindi sconfitta l'Enrico Millo. Le vittorie esterne di TME Codognese 88 su Fontespina, del postaccio appunto e della Boville che passa a Vigasio. Infine il solito convincente successo della Caccialanza. La classifica ora recita così. Caccialanza 18 punti, possaccio 13, Inox Mosciano e Boville 12, poi tre squadre a quota 9, tra le quali la Kennedy di Napoli, anzi di Nola, dei vari Pappacena, Coppola e Lamarca che saranno ospiti dei Verbanesi sabato prossimo. Superato il primo quarto di campionato, sei giornate su 22, il team caro al presidente Dario Mazzolini, che peraltro continua a professare umiltà come giusto che sia, si trova al secondo posto, sia pure a distanza dai mostri della Caccialanza, tuttora imbattuti, anzi reduci da un 6 per 3 che vale un bel 18 in classifica. Detto che a Mosciano società e pubblico sono stati molto cortesi e rispettosi, non sempre accade, e non hanno lesinato a fine gara complimenti ai Verbanesi, va subito evidenziata la prova spettacolare di Nando Paone contro il campione del mondo Gianluca Formicone nei due set dell'individuale. Dopo aver vinto 8 a 4 il primo incontro, il capitano del Possaccio sul 6 a 6 nel secondo set, con l'ultima boccia della giocata, ha colto un gran pallino che poteva essere decisivo, ma per sua sfortuna è finito, sì in fondo al campo, ma sulle bocce del rivale, che ha quindi chiuso 8 a 6. Parità di set anche nelle due sfide della Terna. I soliti tre del Texas, Signorini, Andreani e Scicchitano, hanno perso il primo scontro per 1 a 8, ma vinto il secondo per 8 a 5. Sul 2 a 2 all'intervallo sono state allora decisive le sfide di coppia. Se Paone e Andreani contro Formicone e Santone hanno fatto 1 a 1, vincendo la prima 8 a 5 e perdendo la seconda 4 a 8, il duo Signorini-Scicchitano ha vinto entrambi set per 8 a 4, nonostante la sostituzione del tiratore di casa Rocchetti con Cirietti. Tentativo che non ha dato frutti anche per la costante superiorità negli accosti da parte di Roberto Signorini. E adesso per conservare il secondo posto occorre ribadire la superiorità interna nel bocciodromo di casa sabato, ospiti i campani della Kennedy.